Andevano costi, portavano, portavano in casa. E io dovevo stare a casa. Ha messo su la prima casa, l'ificio che c'era, la prima raccolta latte, diciamo. Il Consiglio regionale ha avviato una collaborazione con Memoro, la banca della memoria Onlus, e lancia una campagna per raccogliere videotestimonianze raccontate da uomini e donne che vivono in Piemonte, nati prima del 1950. E allora ho cominciato a raccogliere il latte, il pagno, il brondello, e lo portavano con i bidunzi, sapete, con i bidunzi a sfalle così. Al mattino cominciavamo alle 5 a ritirare il latte noi. Alle 5 prima aveva mangiato da mangiare ai maiali. Allora avevamo una piccolissima schermatrice a mano perché non c'era la luce. In quella luce mi sembra che sia arrivata a sasfalle, nel 30 anni a pagno. E l'avevo giù, l'avevo giù, questi bambini di 15-16 anni, neanche così. Se ti è piaciuto questo racconto e voglia di raccontare il lavoro che facevi tanti anni fa, puoi telefonare allo 011 020 38 00 sia che tu abbia una video intervista o che la voglia realizzare. La tua storia diventerà patrimonio della memoria, patrimonio di tutti.